e qua si fanno i capparossoli, le famose bongole un miracolo meraviglioso sulla laguna Veneta il penicotte di rosa di solito li vedo tu nelle valli di Comacchio è un animale che migra dall'Africa e si trova bene da qualche anno anche qua un miracolo della natura, della laguna di Venezia la ci sono i penicotte di rosa fare in culo vai è un p***a vai vai ho miscagliato ho miscagliato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti